Prima di parlare della partita, mi piace sottolineare la tua prudezza nella prima frazione di gioco nel recuperare quel pallone che ti era scavalcato. Ti sei rigirato probabilmente dalla parte sbagliata, perché hai avuto tanta prontezza di riflessi per lavare quel pallone con la punta del piede. Sì, è stato un recupero sicuramente fatto nella maniera giusta, è tutto frutto del lavoro durante la settimana che il mister ci propone. Sulla partita? Sulla partita siamo contentissimi del risultato, era una vittoria che aspettavamo da tempo, che ci voleva, che ci dà morale, ci dà quella fiducia giusta per andare avanti durante questo lungo cammino. Comunque in campo ti abbiamo visto lottare da leone, insomma, con gli attaccanti, anche quando ha messo i panzer nella ripresa. Beh, certo, si fa di tutto per non prendere gol, la difensore è la prima, diciamo, il primo pensiero. Poi quando arriva il successo ai tre punti sicuramente aiutano a lavorare meglio. Esatto, sicuramente sì, durante la settimana ci aiuterà ad andare avanti nel miglior modo possibile. Ok, grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.